Esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio. Spinta in alto delle braccia. 3, 2, 1, via! Esegui tutti i movimenti lentamente in modo da evitare problemi alle spalle. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Distensioni i manubri perpettorali con gambe alzate. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, effettua delle distensioni perpettorali semplici. In alternativa ai pesetti, puoi usare delle bottiglie d'acqua o dei libri. Stop! Prossimo esercizio. Stretching braccia e pettorali. 3, 2, 1, via! Non forzare la spinta verso l'alto. Fermati quando senti di essere al limite. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, effettua delle distensioni perpettorali semplici. In alternativa ai pesetti, puoi usare delle bottiglie d'acqua o dei libri. Fai attenzione a non sollevare mai la zona lombare da terra per evitare problemi alla schiena. Per riuscirci, mantieni gli addominati sempre ben contratti. Per riuscirci, mantieni gli addominati sempre ben contratti. Stop! Prossimo esercizio. Stretching spalle e dorsali seduti. 3, 2, 1, via! Non forzare la spinta verso l'alto. Fermati quando le spalle sono al limite. Non inarcare schiena e collo. Guarda un punto fisso avanti a te. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Distensioni manubri perpettorali. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. In alternativa ai pesetti, puoi usare delle bottiglie d'acqua o dei libri. Stop! Prossimo esercizio. Stretching tricipiti. 3, 2, 1, via! Non esagerare con la spinta. Fermati se senti dolore. 3, 2, 1, via! 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non inarcare la schiena quando porti dietro il braccio. 5, 4, 3, 2, via! 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Croci più sollevamento gambe. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Non inarcare la schiena. Tieni l'addome ben contratto per riuscirci. fai attenzione a non piegare i polsi. Mantieni le mani in linea con gli avambracci. Non sforzare il collo. Può aiutarti fissando un punto sul soffitto. stop! Prossimo esercizio. Stretching braccia, spalle e pettorali. 3, 2, 1, via! Fai attenzione a non piegare la schiena. Per aiutarti, guarda un punto di fronte a te. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Croci inclinate. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Fai attenzione a non piegare i polsi. Mantieni le mani in linea con gli avambracci. Fai attenzione a non sollevare le scapole dal pavimento durante l'esercizio. Non sforzare il collo. Può aiutarti fissando un punto sul soffitto. Mantieni sempre addominali e glutei ben contratti. Stop! Non sollevare le scapole dal pavimento durante l'esercizio. 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 3, 2, 1, via! Prossimo esercizio. Distensioni manubri perpettorali con gambe alzate. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, effettua delle distensioni perpettorali semplici. In alternativa ai pesetti, puoi usare delle bottiglie d'acqua o dei libri. Stop! Prossimo esercizio. Stretching braccia e pettorali. 3, 2, 1, via! Non forzare la spinta verso l'alto. Fermati quando senti di essere al limite. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, effettua delle distensioni perpettorali semplici. In alternativa ai pesetti, puoi usare delle bottiglie d'acqua o dei libri. Fai attenzione a non sollevare mai la zona lombare da terra per evitare problemi alla schiena. Per riuscirci, mantieni gli addominati sempre ben contratti. Stop! Prossimo esercizio. Stretching spalle e dorsali seduti. 3, 2, 1, via! Non forzare la spinta verso l'alto. Fermati quando le spalle sono al limite. Non inarcare schiena e collo. Guarda un punto fisso avanti a te. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Distensioni manubri perpettorali. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. In alternativa ai pesetti, puoi usare delle bottiglie d'acqua o dei libri. Prossimo esercizio. Prossimo esercizio. Stretching tricipiti. 3, 2, 1, via! Non esagerare con la spinta. Fermati se senti dolore. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non inarcare la schiena quando porti dietro il braccio. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Croci più sollevamento gambe. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Non inarcare la schiena. Tieni l'addome ben contratto per riuscirci. Fai attenzione a non piegare i polsi. Mantieni le mani in linea con gli avambracci. Non sforzare il collo. Puoi aiutarti fissando un punto sul soffitto. Stop! Prossimo esercizio. Stretching braccia, spalle e pettorali. 3, 2, 1, via! Fai attenzione a non piegare la schiena. Per aiutarti, guarda un punto di fronte a te. 3, 2, 1, via! 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Croci inclinate. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Fai attenzione a non piegare i polsi. Mantieni le mani in linea con gli avambracci. Fai attenzione a non sollevare le scapole dal pavimento durante l'esercizio. Non sforzare il collo. Puoi aiutarti fissando un punto sul soffitto. Mantieni sempre addominali e glutei ben contratti. Stop! Prossimo... 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 3, 2, 1 3, 2, 1, via! Prossimo esercizio. Distensioni manubri perpettorali con gambe alzate. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, effettua delle distensioni perpettorali semplici. In alternativa ai pesetti, puoi usare delle bottiglie d'acqua o dei libri. Stop! Prossimo esercizio. Stretching braccia e pettorali. 3, 2, 1, via! Non forzare la spinta verso l'alto. Fermati quando senti di essere al limite. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, effettua delle distensioni perpettorali semplici. In alternativa ai pesetti, puoi usare delle bottiglie d'acqua o dei libri. Fai attenzione a non sollevare mai la zona lombare da terra per evitare problemi alla schiena. Per riuscirci, mantieni gli addominati sempre ben contratti. 5, 4, 3, 2, 1, via! Prossimo esercizio. Stretching spalle e dorsali seduti. 3, 2, 1, via! Non forzare la spinta verso l'alto. Fermati quando le spalle sono al limite. Non inarcare schiena e collo. Guarda un punto fisso avanti a te. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Distensioni manubri perpettorali. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. In alternativa ai pesetti, puoi usare delle bottiglie d'acqua o dei libri. In alternativa ai pesetti, puoi usare delle braccia o dei libri. Stop! Prossimo esercizio. Stretching tricipiti. 3, 2, 1, via! Non esagerare con la spinta. Fermati se senti dolore. 3, 2, 1, via! 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non inarcare la schiena quando porti dietro il braccio. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Croci più sollevamento gambe. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Non inarcare la schiena. Tieni l'addome ben contratto per riuscirci. Fai attenzione a non piegare i polsi. Mantieni le mani in linea con gli avambracci. Non sforzare il collo. Puoi aiutarti fissando un punto sul soffitto. Stop! Prossimo esercizio. Stretching braccia, spalle e pettorali. 3, 2, 1, via! Fai attenzione a non piegare la schiena. Per aiutarti, guarda un punto di fronte a te. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Croci inclinate. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Fai attenzione a non piegare i polsi. Mantieni le mani in linea con gli avambracci. Fai attenzione a non sollevare le scapole dal pavimento durante l'esercizio. Non sforzare il collo, può aiutarti fissando un punto sul soffitto. Mantieni sempre addominali e glutei ben contratti. Stop! Non sollevare le mani in linea con 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 le mani in linea 3, 2, 1, via! Prossimo esercizio, stretching pettorali. 3, 2, 1, via! 3, 2, 1, via! 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, stretching braccia, spalle e pettorali. 3, 2, 1, via! Fai attenzione a non piegare la schiena. Per aiutarti, guarda un punto di fronte a te. 5, 4, 3, 2, 1, stop! 5, 4, 1, via! 5, 5, 4, 1, via! Grazie.